Il Vincenzo De Luca ha radunato i 31 consiglieri della sua maggioranza a Palazzo Santa Lucia, come sempre accade alla vigilia dell'approvazione della legge finanziaria. Stavolta però all'ordine del giorno c'era la nuova legge elettorale per rimuovere il tetto dei due mandati per il governatore, recependo la norma nazionale e posticipando negli effetti dal momento della presa d'atto. Insomma, la medesima strada percorsa da Zaia in Veneto, ovvero la medesima strada appena percorsa dal Consiglio regionale e del Piemonte anche con i voti dei consiglieri PD, una soluzione che trova conforto in una sentenza della Corte Costituzionale. L'approvazione della nuova legge elettorale dovrebbe arrivare il prossimo 5 novembre, insieme al documento di Economia e Finanza, alla nuova legge di sostegno alle famiglie e alla proposta di modifica alla legge Calderoli sull'autonomia differenziata appena approvata in giunta. Tutti hanno approvato a partire dai consiglieri regionali del PD, ma sarebbe un grossolano errore individuare in questo silente assenso la determinazione a sostenere il governatore nella sua corsa verso il terzo mandato. È vero l'esatto contrario, è vero cioè che De Luca sta giocando la sua partita in perfetta solitudine e non è un certo un caso se proprio i consiglieri regionali del PD unitariamente hanno chiesto una verifica definitiva alla segretaria nazionale. Sullo sfondo resta l'eco degli scandali e delle inchieste giudiziarie che hanno travolto il sistema di potere del governatore. Eco rigenerata da un nuovo filone dell'inchiesta che ha già coinvolto il consigliere regionale Zannini e oggi vede coinvolto il presidente della provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, su un sistema di appalti e tangenti. Magliocca, riferimento del centrodestra, è semplicemente indagato ma si è dimesso, un gesto ovvio e doveroso che tuttavia nel contesto dato appare eretico e rivoluzionario. Ben trovati, la riconoscenza si sa è sempre il sentimento del giorno prima e in politica in realtà è un sentimento che non è contemplato. È invece contemplata l'ipocrisia e il cinismo evidentemente e con ipocrisia e cinismo in questa fase i consiglieri regionali del PD si stanno muovendo per salvare il proprio destino a dispetto di quelle che sono le ambizioni del governatore De Luca. Come noto questa settimana è stata segnata appunto, come ricordava la nostra scheda, da questo incontro, da questa riunione di maggioranza nella quale si è definito il percorso che il governatore ha in testa per rimuovere ogni vincolo di natura giuridica sul doppio mandato e quindi per poter concorrere per la quarta volta alla presidenza della regione Campania e quindi per il terzo mandato consecutivo. È una legge elettorale che al netto di ogni considerazione di merito ha un punto fondamentale. Si alza in maniera molto ma molto ma molto importante il quorum per poter essere eletti in consiglio regionale. Quindi c'è uno sbarramento del 3% e questo è un grande risultato per i consiglieri regionali del PD in primo luogo perché uno sbarramento del 3% evidentemente consentirà di recuperare molto di quel consenso che invece andrebbe perduto nel momento in cui anche i cespugli con percentuali prossimi allo zero fossero, come dire, nelle condizioni di poter esprimere anche soltanto un seggio magari recuperando significative percentuali solo in una provincia. Questo è il vero primo risultato che i consiglieri regionali del PD hanno ottenuto, lo hanno ottenuto approvando questo schema di legge elettorale che come dicevamo dovrebbe restituire a De Luca il diritto a concorrere per il terzo mandato. Ma l'approvazione di una legge che rimuove il tetto dei due mandati non equivale ad un sostegno al governatore De Luca, tutt'altro. Ed è questo il vero punto nel senso che mentre approvavano questa legge elettorale contestualmente spingevano, come stanno continuando a fare, per una verifica con la segreteria nazionale, con Ellis Line, segno evidente del fatto che i consiglieri regionali del PD hanno già deciso nel momento in cui dovesse effettivamente consumarsi questa rottura che ad oggi appare inevitabile, loro seguiranno il partito, ma lo seguiranno evidentemente muovendo da alcune garanzie che oggi pretendono dalla segretaria nazionale. La prima garanzia evidentemente è quella della ricandidatura e questo non è un aspetto banale perché mentre questa guerra tra il Nazareno e il Palazzo Santa Lucia prosegue, gli uomini di Ellis Line sui territori, tutti coloro che in qualche misura si sono sfilati dall'ombra del governatore e nelle varie province puntano a recuperare spazi nel nome della segretaria, scalpitano e quindi è del tutto evidente che i consiglieri regionali del blocco De Lucchiano, del PD hanno come priorità quella di salvaguardare la propria ambizione, quindi in primo luogo blindare la ricandidatura. De Luca proverà in ogni modo e già lo sta facendo evidentemente a misurare la fedeltà di tutti i consiglieri della sua larga maggioranza, li chiamerà uno per uno, proverà a costruire una mediazione con ogni singolo riferimento, ma i consiglieri regionali del PD unitariamente stanno chiedendo questa verifica alla segretaria regionale, quindi si vogliono muovere in qualche misura all'unisono e questo è un altro aspetto fondamentale perché sin tanto che questa unità reggerà dinanzi alla segretaria nazionale sarà impossibile dividerli, quindi non varrà il principio secondo cui Mario Casillo, mister 40.000 preferenze, è un candidato irrinunciabile mentre magari qualcun altro con un consenso diverso, meno pesante sui territori può essere sacrificato. Tutto questo accade mentre veniamo a conoscenza del fatto che in realtà il governatore De Luca ha già pronte tre liste, De Luca presidente è il nome della prima, campagna libera della seconda e a testa alta la terza lista. Non si sa ancora evidentemente quali sarebbero i candidati, molto probabilmente il governatore ha una lista molto più lunga di quella che poi effettivamente servirà a riempire le varie liste nelle varie province, ma questo è un altro segnale chiaro del fatto che il governatore è ben consapevole di dover proseguire da solo lungo questo percorso. Attenzione però, i consiglieri regionali del PD capiscono anche un'altra cosa, sanno che molto probabilmente dinanzi a questa divisione si aprirebbero delle praterie per il centrodestra, insomma, fermo restando che non hanno alcuna intenzione di seguire Vincenzo De Luca in questo salto nel buio, sono ben consapevole del fatto che senza De Luca, con De Luca in campo, molto difficilmente il centrosinistra potrà davvero ambire a confermarsi al governo di Palazzo Santa Lucia. Dunque proveranno nel corso di questa mediazione anche a spingere la segretaria nazionale a riaprire il dialogo, non certo contemplando un passo indietro che non potrà mai arrivare, ma provando a mettere in campo soluzioni alternative per provare a costringere De Luca a desistere. Da questo punto di vista c'è un altro aspetto che va considerato, sbagliamo se valutiamo quello che sta accadendo soltanto circoscrivendone le ricadute alle elezioni regionali in campania, in realtà la posta in palio è molto più alta. Schlein sa perfettamente che nel momento in cui dovesse far saltare De Luca, lancerebbe un segnale chiaro, chiarissimo a tutto il partito, in particolar modo a tutta la nomenclatura che ha tenuto l'eredine del partito in tutti questi anni, dalla fondazione sino ad oggi e non bisogna mai dimenticare che il vero unico obiettivo di Alice Schlein è quello di vincere le prossime elezioni politiche e quindi è lì la vera partita che intende giocarsi e se la vuole giocare tenendo fede alla parola data nel momento in cui è stata eretta alla guida del Partito Democratico, promise di costruire un partito nuovo, di rigenerare il partito non solo in termini di linea politica ed è oggettivamente qualcosa che sta accadendo, ma anche da un punto di vista della rappresentanza e quindi è chiaro che far saltare De Luca vuol dire anche avvisare tutti coloro che nelle altre regioni in giro per l'Italia pretendono ancora di far valere le ragioni della conservazione per arginare qualsiasi cambiamento. Alice Schlein punta a candidare alle prossime elezioni politiche una nuova classe dirigente. Far saltare De Luca vuol dire aprire la strada a questo processo. E c'è anche un ulteriore aspetto da considerare. Il vero grande alleato di De Luca in questa battaglia era il governatore della Puglia Emiliano che come lui si avvia a concludere il secondo mandato e che però a quanto pare ha rinunziato al terzo mandato ponendosi a servizio invece di quella che pare essere l'opzione più probabile, cioè la candidatura di Antonio De Caro ex sindaco di Bari appena eletto alle elezioni europee con un diluvio di preferenze. E questo è un altro aspetto molto importante perché rimosso il problema di natura giuridica resta il vero problema che è quello politico. Nel momento in cui De Luca perde l'unico alleato, cioè l'unico governatore con cui avrebbe potuto giocare in tandem per la battaglia per il terzo mandato, resta effettivamente solo. E sbagliano, ovvero si illudano coloro che pensano che un risultato incerto, magari una sconfitta alle prossime regionali in Liguria e in Umbria potrebbe in qualche misura cambiare il discorso rispetto alla campagna. Fintanto che Elislein resterà alla guida del Partito Democratico non c'è, dal nostro punto di vista, nessuna possibilità che possa fare un passo indietro rispetto alla vicenda De Luca. E quindi resta soltanto da capire se effettivamente la solitaria nazionale ha l'intenzione, è disponibile ad immaginare, di riaprire una mediazione per suggerire a De Luca con degli argomenti e con degli strumenti anche persuasivi, il necessario passo indietro per salvaguardare l'unità del centro-sinistra. Intanto ovviamente continuano gli interrogativi rispetto a quella che poi potrebbe essere l'alternativa a De Luca da mettere in campo e anche qui resta ad oggi molto probabile che nella destra del Nazareno la campagna possa essere in qualche misura concessa al Movimento 5 Stelle. Ci sono moltissime buone ragioni a sostegno di questa tesi. La prima è che chiaramente, tornando alle politiche, per Elislein è fondamentale tenere in piedi il campo largo, quindi mantenere l'organicità del centro-sinistra, provare ad allargare i perimetri di questa coalizione. In seconda battuta il Movimento 5 Stelle mantiene in questa regione delle percentuali molto alte rispetto a quelle che può vantare nel resto del meridione e nel resto d'Italia. Quindi sarebbe anche logico concedere al Movimento 5 Stelle la candidatura apicale proprio in virtù della forza che il Movimento 5 Stelle può rivendicare a queste latitudini e evidentemente candidare un riferimento del Movimento 5 Stelle in ossequio ad un accordo stipulato sul piano nazionale toglierebbe da ogni imbarazzo i dirigenti del Partito Democratico nell'argomentare rispetto al divieto posto a De Luca sul terzo mandato. Quindi tutto questo sta muovendo, tutto questo sta capitando sotto i nostri occhi. Abbiamo letto, ascoltato molte analisi che in realtà interpretavano la riunione di maggioranza e l'assenso piuttosto silente dei consiglieri regionali del PD alla nuova legge elettorale come il segno di una solidarietà. In realtà è molto superficiale dal nostro punto di vista questa lettura. I consiglieri regionali del Partito Democratico in questo momento sono tutti accomunati da un basso profilo, soprattutto nei confronti del governatore e questo lo possiamo verificare anche in giro per i territori dove appunto il protagonismo di questi consiglieri regionali nell'ultima fase è venuto meno ogni qualvolta su qualche palco saliva De Luca ed è quello che sta continuando a capitare anche in queste settimane nel corso delle ultime feste dell'unità in giro per la Campania. Va bene sostenere il governatore sino all'ultimo giorno perché chiaramente dare il senso di questa solidarietà serve ai consiglieri regionali per continuare a gestire quello che devono gestire per la campagna elettorale. Non conviene a nessuno in questa fase attaccare De Luca o prendere formalmente le distanze dal governatore perché appunto il consenso strutturato si alimenta con la gestione tanto più quando mancano pochi mesi alla campagna elettorale. È però altrettanto evidente vero che nel momento in cui la rottura dovesse consumarsi definitivamente nessuno dei consiglieri regionali del Partito Democratico rimarrà accanto al governatore a patto evidentemente che a tutti venga riconosciuto il diritto ad una ricandidatura perché evidentemente se questo non dovesse accadere salterebbero tutti quanti gli equilibri ma Elislein non è una stupida quindi sa perfettamente che per poter mettere in campo un centro-sinistra davvero competitivo non può rinunciare a questi consiglieri regionali che rappresentano evidentemente una base ineludibile da cui partire per provare a riconquistare il governo di regione campagna. In tutto questo però noi osserviamo come sullo sfondo prosegue una condizione abbastanza paradossale e per certi versi molto triste. È passato crediamo un mese o forse più da quando il presidente della provincia di Salerno nonché il sindaco di Capaccio Pestum è stato arrestato e ancora non si capisce cosa dovrà accadere alla provincia di Salerno cosa dovrà accadere al comune di Capaccio quindi sono due istituzioni che in qualche misura sono prigioniere di questa condizione. Nell'Emore invece abbiamo appreso delle indagini a carico del presidente della provincia di Caserta ma di Occa che probabilmente non lo sappiamo per motivazioni anche indotte da quelli che sono gli elementi emersi sino ad oggi ovvero banalmente per quello che dovrebbe essere una cultura democratica basica ha ritenuto di dimettersi e queste dimissioni evidentemente siano esse appunto volute o dovute determinate dalle condizioni giudiziarie dalle indagini segnalano comunque una differenza. Ormai non si dimette più nessuno vi verrebbe da dire e invece sarebbe fondamentale non solo ripristinare questo senso delle istituzioni ma soprattutto ci pare doveroso ragionare sul fatto che fondamentalmente rispetto a tutto quello che è accaduto nel corso delle ultime settimane diciamo sembra quasi che il governatore ritenga di non dover proferire una parola e lo stesso vale per i riferimenti del Partito democratico laddove queste cose sono accadute. Questo è anche un elemento di riflessione che ci deve portare ad interrogarci su quello che è il vero senso di questa battaglia perché sembra tutta giocata su una questione di potere, la segretaria nazionale arrogante non vuole riconoscere il consenso del governatore, una lotta intestina al partito ma in realtà qua in ballo ci sono i principi fondamentali della democrazia rappresentativa, c'è un principio fondamentale sul quale pure già ci siamo soffermati nel corso della nostra prima puntata che ha a che fare con la necessità di consentire alle istituzioni di rigenerarsi soprattutto quando come nel caso dei governatori si tratta di ruoli di gestione, di governo che hanno a che fare quindi con decisioni che poi ricadono direttamente sulle dinamiche del potere territoriale quando si ha a che fare con la gestione della spesa, quindi quando si muovono miliardi è fondamentale e necessario che ci sia un limite anche al consenso. Il consenso che a sentir De Luca è ancora enorme, quindi c'è da dire anche questo, il governatore continua ad alimentare una natazione secondo cui sarebbe l'unico governatore possibile per il popolo campano e anzi un governatore addirittura indispensabile perché recentemente ha affermato che la sua ricandidatura non è un capriccio ma è appunto utile, necessaria per fare in modo che la rivoluzione campana possa trovare compimento. Ecco da questo punto di vista l'auspicio è che in qualche misura il governatore si renda conto dell'insostenibilità delle sue pretese, trovi un punto di mediazione anche grazie alle pressioni dei consigli regionali sul Nazareno perché questo in qualche misura ci restituirebbe un contesto elettorale fisiologico, restituirebbe anche una linearità alla grammatica democratica campana. Se così non dovesse essere evidentemente assisteremo a una campagna elettorale brutta, del tutto slegata da quelli che sono i reali problemi dei cittadini campani, un bagno di sangue tutto interno al centro-sinistra sul quale evidentemente potrà comodamente lucrare il centro-destra qualora dovesse trovare una quadra, una sintesi innanzitutto sul candidato apicale ma quindi anche sulla proposta di rappresentanza e sul programma da proporre ai cittadini campani, tuttavia da quel che apprendiamo anche negli ultimi giorni appare abbastanza evidente che De Luca non stia bleffando, non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro e lo vediamo dai toni che sta utilizzando e dal fatto che sia ormai chiaramente in campagna elettorale. Lo abbiamo visto sui forestali, hanno annunciato una soluzione che in realtà aveva già annunciato dieci anni fa nella sua prima uscita della seconda campagna elettorale, quella che lo portò per la prima volta a Palazzo Santa Lucia, fu una campagna elettorale che De Luca decise di aprire proprio ad Avellino chiamando a raccolta tutti gli idraulico forestali promettendo la stabilizzazione immediata, addirittura se non sbagliamo entro i primi cento giorni, evidentemente quella soluzione ad oggi non è arrivata, oggi ci viene a dire che la stabilizzazione è impossibile, ma che avrebbero trovato delle soluzioni alternative anche con l'utilizzo della creatività. Già si è aperta una discussione, ma insomma la sensazione vera è che già siamo chiaramente in campagna elettorale e che solo dinanzi ad una mediazione che ad oggi appare impossibile si potrà ricucire questa frattura interna al centro-sinistra e sullo sfondo restano appunto le inchieste, restano gli scandali, restano i numeri impietosi che fotografano per esempio lo stato di salute della sanità campana, resta una regione che vive mille e più emergenze che emergenze non sono perché appunto durano ormai da più di tre lustri. Grazie Grazie Grazie